Al via la quindicesima edizione della Kermess gastronomica incentrata sul diamante della cucina abruzzese, il tartufo. Mostra mercato e degustazioni nelle vie del borgo, collettiva d'arte contemporanea dedicata a Dante Alighieri, visite notturne alla necropoli. Il fiore degli occhiello non solo per Cambri ma per l'intera provincia, questo evento è organizzato dall'Associazione Campolano Viva, patrocinata dall'amministrazione comunale. Un evento molto importante perché non si tratta soltanto di una sagra enogastronomica in cui si può degustare il tartufo ma sono possibili fare delle guide al tumulo multimediale della necropoli Campovalano in cui si raffigura la tomba di un sovrano dei pretuzzi, quindi un taglio anche culturale oltre che promozionale del nostro territorio, dei nostri prodotti tipici enogastronomici. Quindi ci teniamo molto, è sempre molto frequentato e quindi speriamo che anche quest'anno ci siano molti avventori. E quest'anno una particolare attenzione a Dante Alighieri? Il nostro paese pecca di un corso principale dove strusciare come in generale si dice, quindi dobbiamo aglietare i nostri avventori con delle mostre per far passare una lieta serata. Quindi facciamo di tutto per fare ciò. Per quanto riguarda le visite alla necropoli, ve la ripetiamo per il quarto anno e poi facciamo tramite la Star Art una mostra sul 750esimo anniversario della morte di Dante Alighieri. Cosa si potrà degustare? Dal formaggio fritto al reale, alle tagliatelle al tartufo, ravioli, pasti al forno e così via. Abbiamo voluto introdurre un piatto un pochettino più delicato a base di solo tartufo fresco e una noce di burro. Oltre a questo abbiamo voluto ricordare una storica sagra che prese piede a Campovalano circa 32 anni fa, la Sagra della Lumaca, che era una sagra organizzata dalla vecchia squadra di calcio di Campovalano. Noi quest'anno lo riproponiamo come secondo, quindi un piatto a base di lumache con una bruschetta al tartufo fresco. Grazie.